Inizia così questo video perché lui lo vedrete ancora ragazzi sul mio canale ma quello che non vedrete più è il mio sfondo, questa parte di dietro perché vado via, vado via, sto lasciando questa abitazione, questo studio che è stato la mia casa e anche il mio studio personale e per tantissimo tempo ragazzi forse saranno una decina d'anni circa, sono successe tante storie anche in questa casa, tante cose sono cambiate, la mia vita stessa negli ultimi dieci anni con la scoperta dei mercati delle cripto è veramente cambiata, l'apertura del canale YouTube ero proprio lì vicino ragazzi quando feci uno dei primi video mentre cercavo quelli che erano i miei layout dello studio, insomma i miei primi video di YouTube veramente osceni come tutti quelli che iniziano insomma ragazzi è arrivato il momento di cambiare anche per me, cambiare è importante ragazzi perché anche se è difficile a volte anche se ci mette sempre un po' di ansia di nostalgia ma cambiare è importante perché ci fa ripartire da capo ci fa avere nuove idee, nuove linfe, nuovi obiettivi, nuovi e nuovi monti da scalare, nuove dette da raggiungere. Questo layout che vedete ragazzi sarà l'ultima volta che lo vedete in questo video perché dal prossimo un po' dovrò sistemare nel mio nuovo studio che ci ospiterà ovviamente quello che sarà tutta una serie di set dove andremo a fare nuovi video, andremo a fare nuovi contenuti ragazzi e avremo più spazio anche per realizzare magari layout differenti eccetera e soprattutto io ho preso anche un'abitazione molto più grande dove avrò anche una divisione di quello che è la mia vita privata da quello che è la mia vita lavorativa in ambito YouTube perché in questo momento ragazzi era tutto ok accavallato, lo vi faccio ridere per esempio vedete lì quello il mio divano nonché adesso non c'è più la tv perché la tv è già stata migrata ok però era anche il posto dove io passavo poi le mie serate dove ho vissuto i due mesi della pandemia completamente chiusi in casa ragazzi e qui era lo stesso posto dove io andavo a suonare dove prendevo la mia chitarra per fare qualche pezzo nuovo e addirittura allenarmi quando ero chiuso in pandemia quindi facevo anche l'attività fisica. Qualcuno di voi si ricorda c'era anche una kettlebell qualche tempo fa qui. Facciamo una cosa adesso vi mostro anche tutto lo studio da vicino con video con un video proprio in face diretto. Ok allora questo è quello che era la mio il biodesk setup ragazzi ogni tanto l'avete visto in qualche foto oppure anche in qualche video qui abbiamo diciamo una serie di accessori questo ho fatto un unboxing tempo fa di questo prodotto e poi l'inimitabile unico e solo e mitico bitcoin gold che ci accompagna non quello insomma il gold però vero insomma ma in ottole che ci accompagna da tanto il mio mouse il mio computer il ring la nuova camera che era arrivata e in diciamo questa era un po' la cosa che ci accompagnava ogni volta nei momenti di riflessione ragazzi un bella una bella immagine di wall street il mac che è nuovo arrivato poi vi faccio vedere anche i laterali che sono quelle che insomma la stampante veramente uso pochissimo il mio parato audio ragazzi perché io sono anche musicista quindi si va con schede audio la mitica piantina da youtuber che ho preso qualche anno fa e poi alcuni gadget insomma che ci hanno accompagnato veramente in questo in questi anni compreso il alimentatore di bitmain la chitarra di sfondo molti mi hanno chiesto dice mauro ma che chitarra è questa qui questo è un imbanez che io utilizzo poco a dire la verità ultimamente perché la chitarra diciamo è uno dei miei secondi strumenti ma non il principale e poi ne ho preso un'altra che era leggermente insomma più comoda da utilizzare in quando vado a fare qualche live o qualche concerto allora qui le varie librerie che sono tra le altre cose ormai vuote perché ho iniziato già il trasloco e quindi tutta la serie di libri che ricoprivano questi cubi che vedete non ci sono più qui fatto ragazzi allora poi vi faccio vedere quello che era dietro alle mie spalle allora qui ce l'ha il super televisore che ormai è sparito anche lui già trasportato delle super monitor da studio e poi altre piantine poi la scritta dream ragazzi perché non si smette mai di sognare non bisogna mai farlo altri libri altre zone una delle cose cui sono più affezionato di tutti cioè la mia piastra con i cd in vinile qualcuno di voi ragazzi vi faccio anche vedere che cosa c'è dentro ragazzi uno dei miei vinile preferiti che un vinile dei toto del 1978 veramente meraviglioso ragazzi poi questo è una splendida immagine di afremov che fa parte della sua collezione bottling jets dovrebbe chiamarsi perché sono delle bottiglie che suonano ovviamente jazz e poi ragazzi lui il mitico e unico batman chi di voi sul canale veramente da tanto tempo se lo ricorda perché lo utilizzavo veramente un sacco di volte anche in nei video poi questo layout lo avete visto anche in una serie di video perché questo è il mitico divano ma il divano tornerà perché me lo porto con me quindi ragazzi allora questo è stato il set che ci ha accompagnato veramente per tantissimo tempo compreso il mitico acquario che va ovviamente sistemato è la sedia che è cambiata però recentemente anzi mettiamola così così la vediamo ecco la sedia che molti di voi mi hanno anche chiesto che sia la è una sedia di Ikea una sedia fantastica di Ikea ok allora ci tenevo a farvi vedere tutto lo studio avete visto tutto quello che ci ha accompagnato il batman per chi mi segue veramente da tanti anni che ci accompagnava o ancora la maglia di batman ragazzi la riporterò nel prossimo video è un po tutte quelle che sono state le gag che abbiamo creato in questi anni che sono stati magnifici ragazzi devo molto anche a voi devo moltissimo a tutti i follower a youtube a questo nuovo progetto perché veramente abbiamo fatto tanto tanto tantissimo metto sempre il cuore nei miei video continuerò anche a farlo ragazzi però è arrivato il momento di dire ciao a questa layout ne costruiremo un altro anche insieme perché man mano che farò all'inizio vedrete solo un muro bianco probabilmente ragazzi ci vorrà tanto tempo per rifare un nuovo studio e sicuramente non lo farò adesso che è il mese di agosto ma ci vorrà settembre e perciò vedete solo un muro bianco ragazzi però andremo a creare anche un nuovo desk setup questo qui e mi piace molto quindi me lo riporterò lì poi ovviamente lo rifarò da capo e that's it ragazzi nuova vita nuovi obiettivi diciamo ciao ciao a questa questo luogo questa abitazione e soprattutto abbracciamo anche una nuova fase vi aggerò anche tantissimo probabilmente nei prossimi mesi se il covid ce lo permetterà se la pandemia ce lo permetterà e come sempre vi porterò con me ho anche questa super cam che tecnicamente dovrebbe andar bene anche per fare quelle cose in giro un po' per il mondo va bene ragazzi allora io intanto vi ringrazio e dallo studio trading on mauro caimi it's the end per questa zona qui ok ragazzi dieci anni con me e tre anni con voi in compagnia ciao a tutti ragazzi e come si diceva una volta incipit vita nuova ciao